Descriviti con un aggettivo Curioso Se fossi un animale, cosa saresti? Un istrice con il suo noto Sol per difesa, io pungo Se il tuo corso fosse uno sport, quale sarebbe? Calcio Che superpotere dà il tuo corso di laurea? Resilienza Una tua mania? Soldatini di pianto Il regalo più bello mai ricevuto? Un modellino della Diane 6 Arancione che avevo da ragazzo E quello più inutile? Tutti quelli che mi regavano bottiglie di vino, sono astemio Se il tuo corso fosse un film cult? The Blues Brothers, divertente e allietto fine L'opera d'arte che più rappresenta il tuo corso? Impressione di Monet Non puoi vivere senza? La cioccolata Se il tuo corso fosse una pietanza, quale sarebbe? Direi l'acqua, indispensabile ma non sufficiente Grazie a tutti